Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Extremat Farm Survival, l'episodio numero 37 Ci avviciniamo sempre di più a quel dungeon là in alto Nello scorso episodio abbiamo completato la stanza delle medaglie con una sola fail medal che da quanto ho capito è buona come cosa Non è il massimo però è buona e quindi ci accontentiamo Da questo punto di vista ci possiamo accontentare perché è l'unica cosa che possiamo fare O potremmo tentare di fare uccidere Creeper a manetta dagli scheletri per ottenere dei dischi Perché per chi non l'avesse ancora capito le medaglie in questa mappa non sono altro che dischi con la texture cambiata Lo so che vi ho distrutto un mito però è così essenzialmente Allora dato che ho 42 livelli, 42 livelli vuol dire che non sono morto da un pezzo Ma la usiamo sta Ultimate Elixir? Ma io direi anche di sì Direi anche di sì e direi anche che ci possiamo approcciare Al Cuocere le patate Cuoci le patate che sono buone Cuoci No a parte di scherzi voglio Utilizzare delle ultime Elixir che Ricapitolando un attimo perché l'ho mostrato solo ieri Speed 4, Jump Boost 2, Strength 4, Fire Resistance 4 520% di attack damage Vuol dire che faccio un danno boia Probabilmente one shotto la gente E 80% di velocità Cosa vuol dire? Vuol dire Che è una bestia E la cosa migliore è che è una pozione hardcore Cioè tu la bevi e ti dura finché non muori Se io non muoio fino alla fine della Forbidden Hunt Farm A meno che non mi resetti l'inventario Io ci avrò sta pozione E quindi è semplicemente una cosa epica L'unica cosa è che non so cosa mi aspetta là in alto Quindi io se non sbaglio c'ho anche delle pozioni di Fire Resistance Ecco Dato che c'è della lava che usciva anche dal dungeon Tanto vale portarmi anche delle pozioni di Fire Resistance Delle altre patate subito Dammi tutte le patate che ci sono Stavo guardando Scusate Qualcos'altro Mi porto la terra Che la nether che si può spaccare Portiamoci anche qualche splash pocci Le splash pocci Perfetto Ci siamo Siamo operativi ragazzi Si va Mangiamo le ultime texir Che ce n'è più veloci più tutto Guarda qua che bello Infiniti Madonna Ah ma aspetta Mi posso fare un po' di armatura Se non sbaglio ce l'ho i diamanti per farla Ce le ho? Si che ce le ho Perché sai com'è Dato che stiamo andando a fanculo Essenzialmente Almeno fa amici andare con un po' di armatura seria Ad esempio i pantaloni me li faccio E mi faccio anche il cappellino Il cappellino giusto? Il cappellino Tu 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 Perché hanno quanto Quante durabilità E poco potrebbero finire Non voglio correre il rischio Perfetto Oddio guarda quanto salta Oddio Vediamo un uovo E spacchiamo una più buona fortuna Non è uscito niente Probabilmente moriremo come dei cagni bastardi Ma a noi fotte sega Perché ne siamo però E a noi ci fregano queste cose Eccoci qua Allora io ho chiuso tutto Ci dovrebbero essere rimasti degli spawner Perché mi sa che alcuni non li ho eliminati Però Essenzialmente Il discorso è Sali come un deficiente Sali Oh mio dio che salti della madonna che fa Troppo forte Troppo forte Mamma mia Sta pozione mi piace tantissimo Ti giuro E' una bestia sta pozione E il fire resistance 4 Ancora di più Ecco Ho insciutto tutti L'amo sta pozione E' la mia pozione preferita di tutti i tempi Più di tutte le pozioni Possibili Immaginabili Io voglio bene a questa pozione Potrei sposarla a questa pozione Qualcuno fascia un meme in cui sposo la pozione Vi prego Ne ho bisogno Guarda quanto salta L'amo tantissimo L'amo troppissimo Però se cadevo e morivo Non la come bestemmiavo anche Ok allora A quanto pare Devo Posizionare l'uovo del drago In cima là Non so qua dentro cosa ci sia Dopo sei qua attraverso? Ma sei scemo Scusa eh Facciamo un attimo così Grazie Pupu Oddio i blaze Perché i blaze Perché i blaze? No 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 Pensiamo prima a devastare Tutti sti cagni e bastardi Se le permetti No 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 Via Su su E dammi tutto Allora probabilmente Mi conviene farlo Off camera Oddio Oddio c'è un gas L'ho sentito Non mi sparare Non mi sparare Non mi sparare Aspetta 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 Ti dico io quando puoi spararmi Eccolo infatti Ti dico che ti ho detto io Quando puoi spararmi E tu no Ho mancato E Boom bitch Non riesco a prenderlo Ecco uno Due Tanto fotte sega Anche se Se infiamma Guarda c'ho Fai resistance Non mi fa niente Non mi fa niente sul serio Posso andare nella lava Non mi fa niente No non rischio Sai com'è Niente Però intanto Chiudo anche di qua Ma c'è un fuggio di blaze Ci sono Aspetta usiamo la terra No non posso usare la terra Non c'ho Che palle Allora Io intanto Tolgo Tutti Tutti tua mamma Levo Ti ho sciolto la famiglia È troppo OP Questa pozione è troppo OP Non pensavo di Di doverlo mai dire In minecraft Ma c'è qualcosa che è troppo OP Quel 580% Madonna la tosse Manco avessi l'ebola Riesco Riesco ad andare qua sotto Ah si che posso Così Prendo anche un po' di Cobblestone Vai Perfetto Perfetto Oh Permesso Non mi fate niente C'ho la file resistance Ma cosa volete fare La droga Volete fare Madonna No penso Non penso Di Di averla Non dovrei averla dovuto usare Sono invincibile Finché ho del cibo Non posso morire Proviamo a passare A traccia la lava Perfavore Non mi fa niente È OP Cos'è questa droga È una droga La voglio in minecraftita Assolutamente Ma ci scherzi Subito la voglio Ma non scherziamo Perfavore È la best thing ever Nel mondo Ok Ho quasi distrutto Tutto Però Mi manca solo quello E forse qualcuno di là Non l'ho visto Però Guardate un attimo là Perfavore Cos'è quel coso Cos'è Perché vedo una skin All'interno di quello spawner Dico solo questo Dico solo questo Perché vedo una skin Dentro quel spawner Ho paura Ho leggermente paura Perché conosco solo Un pg In minecraft Che ha la skin Ed è un mob E non dirò il suo nome Per scaramanzia Ok Ok Se volete scrivetelo Nei commenti Ma Se io Nel prossimo episodio Vado lassù E trovo Chi sapete voi Mi incazzo Mi incazzo Perché se Per qualche motivo Perdo la pezione Io Io sclero Sclero Divento come Le peggio facebook stars Comestruate Sul serio Sul serio Eh Temetemi Temetemi Ok Era così facile Perché devi metterci lui Che c'è qua Perché sento degli zombie Ah perché c'è uno zombie Ciao signor zombie Ma non mi fai un cazzo Deficiente Non mi fai un cazzo Troppo bello È troppo bello Ah per me Ma con ancora un bordello Di cose Madonna Un casino Cioè non mi fanno Cioè non mi fanno niente Però L'unica cosa Che mi dà fastidio È che se un ghast Arriva Mi spara Mentre sono Là sopra E mi butta giù E magari muoio Per il danno La caduta Capisci Che un po' Mi incazzo Ecco Cosa stavo dicendo Buongiorno Visto Troppo pro player Troppo pro player Dammi tutta la terra Però Cazzo sarebbe molto più comodo Con Con la cobblestone Ma mi sa Che è stato stupido Finire la tutta Cazzo Perfetto Ho levato tutto Non c'è più uno spawner Di ghast Devo solo andare Là sopra Sì Diciamo che Vado a prendere Ah no Manca uno là Cazzo Sono deficiente Lo giuro Che non mi drogo Lo giuro Madonna Mi ha preparato Tutto il discorso Per aver finito Ma no Comunque Faccio quello Poi vado a prendere L'uovo di drago E nel prossimo episodio Andremo Ad affrontare Voi sapete chi Che mi sembra tanto Di essere in Harry Potter Sinceramente A dire Voi sapete chi Voi sapete non chi Però Fotti sega Spero solo di fargli un malecane Con la devastator Qua di ferro Come si chiama Titan blade E le altre robe Cioè C'ho 580% Porca vacca Se non lo one shot Anche a quello Un cazzo Siamo operativi Mi serve solo L'uovo di drago Sono invincibile Non ho paura Di portarlo con me Perfetto Per questo episodio È tutto Mi ringrazio tantissimo Per la visione Ricordo di lasciare Mi piace Di iscrivervi al canale Se come avete fatto Iscrivervi su Twitter Su Facebook Ovunque vogliate Di seguire anche I altri video Che sono usciti oggi E vi saluto Sono invincibile Cazzo Sono invincibile Ciao Trudududutti Trududutti 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 Grazie a tutti